Coppia pre-finale della Anthem, costruiti in Canada, una società tuttora in attività che ha ereditato tutto il know-how di Sony Frontiers. Il TL-P1 è un preamplificatore dotato di grande flessibilità con telecomando contenente un sintonizzatore FM di qualità, a 5 in grassi linea, 3 uscite fisse, un'uscita subwoofer con filtro a passo a passo, un'uscita con filtro a passo alto, controllo bass and treble e balance. Ha pure l'uscita cuffia. Il suono è rilassato, mai pungente, ma comunque con una buona dose di dettaglio e di musica. In una recensione scritta da Soundstage, leggiamo che il suono è solido come una roccia, molto godibile al di là delle aspettative relative alla classe dell'apparecchio. È ideale per chi vuole dotarsi di un pre-versatile di buona qualità con una spesa ridotta. Il finale, il PDA2, ha una potenza di ben 125 Watt RMS a 8 Ohm, un segnale rumore dallo 0,02% a 1 kHz, una sdiuretta di 28. I due parecchi si complementano alla perfezione per un risultato finale di tutto rispetto con un elevato rapporto qualità-prattore. Grazie per la visione!